Per 300 famiglie di Nocera Superiore sarà un Natale più sereno grazie al contributo per il pagamento delle utenze domestiche erogato dal Comune. Il sostegno economico Unatantum, concesso alle fasce deboli della popolazione fino ad un massimo di 700 euro a nucleo familiare, arriverà proprio durante le festività natalizie. Il provvedimento era stato disposto dall'amministrazione Cuofano nei mesi scorsi con un'apposita delibera di giunta per sostenere tutte le famiglie già gravate dalle conseguenze della pandemia e che oggi devono fare conti con i forti rincari delle bollette delle utenze domestiche. I fondi stanziati per quest'ulteriore sostegno straordinario ammontano a 157 mila euro circa. Abbiamo tentato di alleggerire in qualche modo le difficoltà di molte famiglie sperando che possano in parte vivere con meno angoscia un periodo che dovrebbe essere di gioia e serenità, sottolinea il sindaco Giovanni Maria Cuofano. È un intervento importante per dare conforto ai nuclei familiari più colpiti da aumenti dei costi energetici ed inflazione. Quello di quest'anno è infatti un Natale all'insegna del caro bollette e dell'aumento dei prezzi al dettaglio con molte famiglie costrette a fare non poche rinunce.